Ebbene cari amici, ben ritrovati a tutti voi, secondo video di questo 22 agosto del 2023, io sono Manno e questo è il canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro. Ben trovati ragazzuoli, ben trovati a tutti voi, come sempre, come dico sempre, vi ricordo che in descrizione a questo video e a tutti quelli che vedete e trovate all'interno di questo canale stiamo per superare i 1500 video pubblicati, ragazzi, in tre anni, che non è proprio per niente male. Vi ricordo, appunto, trovate tutti i nostri riferimenti. Ne approfitto in questo video, all'inizio di questo video, per ringraziare chi in maniera davvero con partecipazione ci supporta nella vita di questo canale, quindi ce l'ho assolutamente con gli abbonati, anche ieri ho notato con piacere che è entrato un ulteriore abbonati, la squadra degli abbonati si sta ingrandendo, siamo arrivati a quota 14, calcolate che fino a poco tempo fa eravamo 6-7, tanto per farvi capire, quindi abbiamo già raddoppiato la quota abbonati. Lo dico perché una volta che gli abbonamenti arrivano a una cifra ragionevole, nella mia testa quota 50, 50 abbonamenti, sappiate, lo dico agli altri, nessuno se la deve prendere a male, ragazzi, che riterrò giusto e opportuno premiare chi si sarà abbonato, come? Regalando loro, preparando dei contenuti riservati solo ed esclusivamente agli abbonati. La stessa cosa è successa con l'anteprima della nostra nuova sigla che ho presentato l'altro ieri mattina solo agli abbonati e tutti gli altri hanno potuto vederla solamente nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio. Questo perché, lo ribadisco ancora una volta, è giusto, giustissimo, cominciare a premiare concretamente chi davvero dà un contributo, seppur con appena 1,99 euro al mese, che può sembrare una stupidaggine, ma tante piccole quote in realtà danno un supporto, un aiuto importante a questo nostro piccolo progetto a gestione familiare. Questa mattina, nel primo video, abbiamo parlato del fantacaccio, ci siamo dedicati al discorso ludico e va bene, adesso ricatapultiamoci sul discorso Lazio, nello specifico. Vi dico la verità, ve lo dico proprio sincero, sincero, sincero. Avessi voluto fare lo scoop, darvi una notizione, avrei dovuto fare una live ieri sera e darvi delle notizie di mercato che mi sono state date. Non me ne frega un cavolo, ne parlo nel pomeriggio se me va. Ve lo dico proprio sinceramente, non mi interessa, i scoop li lasciamo all'altro, ok? Perché voglio aspettare la definizione di una trattativa che mi è stata data praticamente per fatta in casa Lazio. Detto questo, non ne va di parlarne adesso, perché voi sapete che io ho delle priorità nel mio modo di vedere il calcio, ma soprattutto di vivere la Lazio e la mia lazialità. E ancora una volta, io oggi mi trovo qui a puntare il dito contro la società Lazio. Tutto nasce da una riflessione che è stata in me maturata da un messaggio che mi ha mandato un nostro amico dell'espettatore, messaggio che mando adesso in sovra in pressione. Come potete vedere ragazzi, questo è un papà, è un papà di famiglia che ha il grande desiderio di regalare al figlio una giornata a formello, una giornata diversa. Pensate voi per un bambino cosa può significare entrare a formello e vedere da un centimetro i propri idoli. E questa persona chiedeva come prendere appuntamento per entrare in quel di formello e fare questo bel regalo al figlio. E purtroppo, ancora una volta, mi trovo costretto a sottolineare la totale assenza della società Lazio. Io so che c'è qualcuno della società che mi vede, ma non me ne può fregare una mazza, dico quello che penso. Ancora una volta, la Lazio è pessima al limite dello schifo per come si comporta con i suoi tifosi, soprattutto con i più giovani e con i quali dovrebbe stare attenta, perché i piccoli di oggi, i giovani di oggi, possono rappresentare lo zoccolo duro del tifo biancoceleste in futuro. E invece, ancora una volta, la Lazio è completamente assente. Quindi a questo papà che mi ha scritto in privato rispondo che la Lazio non ha in programma delle visite per i suoi tifosi dentro Formello. La Lazio non ha in programma aperture settimanali a Formello, semplicemente per la gratinata, giusto per far vedere da qui a lì, a un metro di distanza, i propri idoli. La Lazio non ha in previsione questa cosa, perché alla Lazio non gliene frega una mazza. La Lazio non è sensibile verso il suo tifoso. La Lazio vede il proprio tifoso solamente come una fonte di guadagno. Ok? E io adesso ve lo dico chiaro e tondo, a me non me ne frega niente che vado sulle scatole a tanti tifosi della Lazio che vedono questo video, ma dall'altra parte del Tevere non c'è Storia. C'è poco da fare, ragazzi. Nonostante sia una società in grandissimo affanno a livello economico e non sono fatti nostri, la vicinanza che hanno perso il tifoso, cercano in tutti i modi di dare loro dei piccoli vantaggi, come giusto che sia, principalmente agli abbonati, dalla parte nostra non esiste. La Juventus ha le visite guidate alla Juventus Stadium, il museo della Juventus, il Torino ha le visite guidate, il Milan ha le visite guidate all'interno della sua società, l'Inter ha le sue visite guidate, la Sampdoria ha le sue visite guidate, è una squadra che sta in serie B. Il Genoa neopromossa ha le visite guidate. Nella Lazio questo non esiste. All'epoca della gestione Cragnotti, che ho vissuto da vicino, il giovedì cancelli aperti. I primi 3.000 che entravano avevano accesso ad assistere all'allenamento della Lazio. Adesso questa cosa in seno alla società biancocereste è completamente assente. Perdonatemi, lo so che voi oggi vi aspettavate che io tornassi a parlare di mercato, a me del mercato, rispetto a queste notizie qua, non me ne frega un cazzo. Scusate il termine forte, ma quando io su queste cose divento una belva. Quindi, cara Lazio, ancora una volta, proprio disprezzo totale nei due confronti per quello che non fai, per il tuo modo di non coccolare il tifoso, proprio la Lazio non capisce che la vera forza di una squadra di calcio è i suoi tifosi. Non sei te, cara la società, non sei te, caro Lodito. La Lazio è il tifo, è altra cosa. È quello il cuore pulsante di una società di calcio. Quindi finché la Lazio non capirà e non farà questo step, ci troveremo continuamente di fronte a messaggi come questo ragazzo che voleva fare un regalo al proprio figliolo e invece si attacca. Pensate un po', avrei fatto pure una rima che però non posso fare. Questo è il discorso, tanto per farvi capire. E io quando leggo certi messaggi divento una furia. Ok? Quindi te che guardi i miei video, te che ogni tanto mi scrivi e guardi i miei video, a te faccio l'appello, per favore cerca di sensibilizzare un presidente sordo, ok? Al quale sicuramente saranno già arrivate queste richieste, ma è un presidente che nell'ottica della cura, del dettaglio legata al proprio tifoso, è davvero, davvero pessimo. Io vi saluto, vi do appuntamento al video delle quindici, lì sì che torneremo a parlare di calcio mercato, vi darò qualche notizia sperando che a fare lo scoop ci abbiano pensato gli altri. Vi mando un abbraccio forte e come sempre, forza grazie a tutti. Ciao ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!